1860 Garibaldi e i suoi mille sbarcano in Sicilia 1960 i terroni invadono il nord eccoli Walter e i suoi cugini attaccano Milano gettano lo scompiglio fra i milanesi buongiorno per favore adiaste l'ufficio d'informazione cos'è? l'ufficio d'informazione adiaste ma dici cos'è il parla arabo lui che non capisci no l'ufficio d'informazione adiaste che vuol dire su mica assurti che il ministro cos'è lei che vuole perchè non capisci la gota però non capisci cosa stai dicendo non capisci su no assurti che il parla è italiano per piacere ah italiano ecco danno la scalata al potere mettono in mostra la loro disperata audacia ma non scappano volte oh madonna madonna impongono nuove leggi e nuovi codici della strada non ho visto il semaforo? spericolati spericolati o teneri ma perchè? ma perchè? ma perchè non me l'hanno spiegato prima? che bello che bello impavidi ma allora è vero l'hai ammazzato tu! madonna ma sono wraffatai questo mo per te madonna ma sono wraffat questo mo per te madonna sono wraffat questo mo per te licon她 e sempre wraffat questo mo per te madonna ma sono wraffat questo mo per te Voi enigmatici? Finalmente ho capito Quello che ha chiamato i fratelli qui a Milano Ma no, siamo cugini, io e Nicola Mi fa sbagliare anche a me, direttore Ma adesso non siete più neanche fratelli? Io e Nicola siamo fratelli Walter non ha fratelli, ha i cugini che siamo noi due Io e Nicola che siamo fratelli, però cugino... Top! Walter e i suoi cugini Con disprezzo della vita altrui Insensibili alla città tentacolare Battono alle porte dell'eternità Stai tranquillo, lo metto in fresco, te lo conservo io Aspetta, ti aiuto Ecco Assaltini, uno Uno Ancora Ecco, da E battono in ritirata Beh, ma cosa fa lei? Scusi signore, ma io stavo cercando la ritirata Conciato così Se deve andare fuori, così fa freddo Fuori, all'aperto Ma come parla? Ma la smetta di fare il buffone E si levi quegli occhiali E si ricordi che il bagno è stato fatto nuovo Va lasciato in ordine E si ricordi anche che mi deve un mese d'affitto, vero? Scusi signora Allora a questo punto forse è meglio che io spieghi No, 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 adesso non ho tempo Riprenderemo il discorso domani Adesso non posso Va bene, grazie Meglio così perché anche io vado di fretta Ah, domani Ma soprattutto Walter e i suoi cugini Sono colti Sempre colti Fortissimamente colti Gar... Garcialorca No Gaffia Gar... Garia? No Garia 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 Eccoli per tutti Correte tutti a vedere Walter e i suoi cugini Con Walter Chiari Nella parte dei tre cugini Valeria Fabrizzi Alberto Bonucci Ave Ninchi Riccardo Billi Carlo Delle Piane E Mino Besozi Anche Ben Lori Williams Della pfill. Monti E suoi cugini Garia memes 面 Ho Esa Dar glued Valändern Apare puree Por上面 Esa Pec irus